bene ragazzi ciao amici di fisherland e benvenuti al nuovo video oggi ragazzi vi voglio fare vedere da vicino una canna di casa favorite inizio questo video come al solito spiegandovi il perché in realtà la favoriti viene distribuita come tanti di voi sanno da un noto distributore che la all capita in qua in italia la favorita ha un sacco di canne nella propria gamma nella propria produzione alcune di queste non vengono distribuite normalmente per scelta commerciale dal nostro distributore grazie a un nostro cliente che un bel po di tempo fa attraverso dei siti stranieri ha scoperto la serie della favorite che è la skyline tz me l'ha ordinata e attraverso il distributore sempre molto attento e sensibile alle nostre richieste siamo riusciti a far avere a questo cliente queste tre canne io ve l'ho ricensite e ve l'ho messe qua sopra ve le metto qua sopra in link in descrizione vi sottolineo ancora oggi che quelle sono canne che non sono disponibili ma si possono ordinare benissimo questo cliente ringraziandomi di questa recensione che io ho fatto mi ha dato anche la possibilità di provarne una per un paio di settimane l'ho provata attentamente e il problema che incontravo utilizzando questa canna era solo uno il costo perché come sapete ogni canna che è montata con gli anelli intorsite quindi i tz classici ha un costo di almeno un centinaio di euro in più rispetto a quello che è il valore della canna di base ecco perché rimane molto limitante da parte dei clienti poterla adoperare così abbiamo esperienza anche passata in altre aziende che continuano a voler fare delle alcune canne che potrebbero essere godibili da molti da molti non da tutti ma da molti continuano a fare le anellate solo intorsite e a questo punto purtroppo quella canna non è godibile per tutti benissimo abbiamo scoperto e grazie anche le vostre segnalazioni che la favorit che in queste cose un po ci ragiona come sapete io l'ho sempre detto produce la skyline a quindi non la tz con l'anello intorsite oltre a quella fa anche la skyline a quindi una canna identica uguale con tutte le stesse identiche caratteristiche a parte l'estetica che chiama a perché viene montata e anellata con la fuji alconite ecco lì una volta che l'abbiamo vista avendola provata vi posso assicurare signori miei che è una canna veramente a modo ha un ottimo rapporto qualità prezzo pur essendo una canna di fascia medio alta più alta che media oggi vi voglio fare vedere da vicino e le abbiamo disponibili linkate qua sotto chiaramente il link al nostro sito in descrizione la favorit skyline a quindi la skyline con le stesse caratteristiche di materiale di composizione di azione soprattutto un'azione molto particolare con l'anello in alconite quindi a un costo più diciamo un po per tutti diciamo un pochettino minore a questo punto ragazzi ve la voglio fare vedere da vicino rimanete con noi perché qualche consiglio su questa canna avendola potuta provare ve lo posso dare a ragion veduta quindi un'azione extra fast che è veramente extra fast ma ci vediamo dopo bene partiamo come di consueto dalla custodia vi dico subito che vedendola da vicino farò qualche confronto per farvi capire anche quali sono le caratteristiche tra questa skyline a e la skyline tz partiamo dalla custodia quindi una custodia materiale di tessuto un tessuto molto bello molto spesso con la scritta favorite skyline qua abbiamo il codice di questa canna che vi faccio vedere adesso che è la sk y sta per sky a alconite 862 m è la sua lunghezza e la sua azione nel caso della tz la custodia era neoprene 3 mm con le cuciture a vista insomma qualcosina in più ma devo dire che questa è una custodia di tutto rispetto buono il materiale troviamo una monotasca non chiuso dalla cerniera come era nella versione tz ma sempre con le due taschine per tenere separati i due elementi veniamo ora alla parte calda di quello che è la nostra canna perché è il manico partiamo subito con il tappo perché abbiamo sotto esposto rispetto al fondello il nostro marchio favorite impresso come spesso succede sugli manici di favorit abbiamo in questo caso un materiale che è leva non è più il sughero in questo caso naturale della tz e devo dire che in questo caso questo materiale così in eva duro di buona qualità lo apprezzo molto lo metterei quasi a pari rispetto al sughero sono due stili diversi questo uno stile molto più racing questo oro che comunque riporta sempre un po all'old style sulla splittatura sempre scritto my new favorite in questo caso sempre in oro veniamo subito alla placca anche in questo caso placca originale assolutamente originale fuji cambia in questa versione la parte di placca in carbonio e eva mentre invece nella tz era tutto carbonio una vitona molto molto lunga una placca inutile da dire con un'ottima chiusura il marchio favorite sovraimpresso sopra questo blu viola scangiante e quindi chiaramente il favorite il marchietto favorite incollato nel sotto placca questa impugnatura in eva che va ad addolcire quella che l'impugnatura lo trovo molto comodo e interessante chiaramente l'anello a ghiera e la legatura super lucida come sulla tz qua non ci sono grossi cambiamenti vediamo la scritta favorite skyline cast over in questo caso troviamo poi tutti quelli che sono i tagliandini attaccati in questo caso vi sottolineo il tagliandino alconite ring quindi dell'anello fuji poi sull'anello vi dirò anche un'altra cosa qua sotto troviamo qualche dato tecnico chiaramente ve lo leggo velocemente 862 la lunghezza m all'azione lunghezza 8 piedi e 6 la grammatura in questo caso 824 vi faccio vedere questa che è la grammatura intermedia vi ricordo che hanno diverse lunghezze nella 18 grammi nella 24 grammi nella 35 grammi e poi abbiamo anche una 50 grammi corta proprio per il massimo della potenza azione extra fast qua arriviamo subito al dunque per la mia spiegazione finale troviamo poi molto interessante in questo caso il simbolo torai 46 ton quindi attenzione questo è il punto forte di questa canna questa canna un materiale in torai 46 ton a nido d'ape che viene verniciato e lucidato fino a questo punto ma poi da adesso in poi abbiamo questo nido d'ape a vista e che al tatto fa sentire questa zigrinatura signori miei che è veramente un'opera d'arte una canna leggerissima vi faccio anche sentire se riesco sentite quindi la zigrinatura quanto è forte e diciamo prominente su questa canna un materiale che mi piace veramente molto che troviamo assolutamente fino all'innesto in questo caso chiaramente a spiegò veniamo subito all'anello un ponte alto fuji alconite come abbiamo detto attenzione perché in base alle misure possiamo trovare il gun smoke quindi il colore del della montatura in questo caso grigio fumo oppure possiamo trovare anche quelli che io chiamo crystal quindi con l'anello fuji alconite ma col gambo diciamo argento lucidato arriviamo subito a vedere quello che è il nostro innesto in questo caso anche il nido d'ape che viene assolutamente tornito e lavorato per raccogliere poi quello che è il secondo pezzo sul primo pezzo vi sottolineo che abbiamo un anello solo e ora vi faccio vedere il secondo pezzo legatura di rifinitura sull'innesto di questa canna troviamo il carbonio a nido d'ape come lavorazione fino al primo anello un altro fuji alconite chiaramente gas moco ponte alto e poi troviamo invece un carbonio radiale quindi con questa con questa zigrinatura che non è più un nido d'ape ma diventa un intreccio classico di carbonio sempre sempre zigrinatura a vista non c'è niente di lucidato e andiamo avanti passando tutti i vari anelli che ora vi faccio scorrere velocemente fino ad arrivare a quella che è la punta questa è una canna da 24 grammi che vi dico già subito che è poi la stessa è stata la stessa grammatura che ho potuto utilizzare una canna veramente oserei dire all round quindi nel senso che sia una canna con un'azione extra fast ma mantiene sempre nelle sue corde un'ottima e buona sensibilità anche per farci manovrare qualche oggettino in più a livello di gomma e non sempre oggetti solo esclusivamente che si possono utilizzare per un'azione di canna appunto extra fast ora l'abbiamo vista da vicino rimanete con noi perché andiamo alle mie considerazioni e consigli finali quindi una canna che ottiene da me un voto alto ve lo dico subito proprio perché in questo caso un caso lampante della richiesta del pubblico che ama questo marchio favorite che sta veramente spopolando nello spinning e non solo perché stanno uscendo un sacco di altre canne oltretutto molto molto attenti ai vari mercati vi ricordo che delle serie x1 da casting quindi una canna che non costa tantissimo progettata direttamente in italia è stata progettata secondo le specifiche italiane appunto da favorite in questo caso tornando al discorso skyline una canna che dà la possibilità a chi di voi vuole anziché con una spesa di 350 400 euro perché abbiamo una canna che per carità è anellata fugi torsite ma come sapete vi ho sempre detto ai fini pratici di utilizzo non fa tutta questa differenza questo ve lo devo dire onestamente monta un anello alconite con delle poche rifiniture che vanno piano piano a smagrire questo prezzo fino ad arrivare a una canna che costa dai 200 euro ai 250 euro quindi non pochissimo ma comunque una canna che ha un carbonio torai 46 ton e una costruzione e un allestimento che non è facilissimo da trovare all'interno di questo che sono il mondo delle nostre canne per il nostro amato spinning quindi trova assolutamente un buon punteggio ve lo dico subito un 9 e mezzo pieno proprio e anche per questo discorso poi l'azione della canna è un'azione extra fast su questo mi voglio dedicare voglio dedicare un paio di minuti su questo discorso spesso le canne sono un po a senso unico sono extra fast quindi una canna extra fast si può utilizzare esclusivamente per determinati utilizzi e per determinate esche perché poi per quello di cui andiamo a parlare in questo caso questa gamma che ha ben più misure grammature di quelle che trovate sul nostro sito internet ma noi ne abbiamo già abbastanza e sono tutte disponibili le vedete qua dietro e sono solo alcune delle grammature lunghezze che ci sono benissimo queste canne dicevo hanno un'azione assolutamente extra fast quindi vi potrei consigliare uno spinning maleducato al sera al barracuda alla leccia utilizzando artificiali in top water senza paura vtd popper un po di tutte le dimensioni grammature in base chiaramente alla grammatura che voi volete andare a scegliere ma nelle due grammature ma forse anche nella terza quindi nella 18 nella 24 nella 35 grammi è molto molto spiccata questa azione di punta quindi questa conicità che va a chiudere sulla cima quindi troviamo una canna che per un 15 per cento della propria lunghezza rimane poco extra fast ma rimane una canna comunque ancora dolce per poter utilizzare anche perché no un jig magari un pochino più piccolo magari una gomma con una testa non per forza di cose troppo grandi e poi esprime al pieno tutta quella che ha la sua potenza nel restante parte della cima fino ad arrivare poi all'intreccio a nido d'ape torai che come sappiamo tutti dona una resistenza una robustezza una prontezza una velocità veramente quasi oserei dire unica per questo tipo di oggetto quindi l'idea di questa canna è sicuramente per uno spinning che non è uno spinning alla spigola con la gomma spiombata ma uno spinning che può diciamo contare sull'acquisto di una canna di fascia medio alta e di non usarla soltanto a senso unico per un oggetto o con pochi artificiali diciamo che quindi la scelta della grammatura che non vi spaventi il fatto di scegliere una 18 una 24 grammi perché le espressioni di questi lanci di questi 24 grammi sono completamente assolutamente pieni avendo una buona sensibilità di cima mi sembra di capire che Favorit concludendo con questa Skyline voglia fare una canna di fascia media che è difficile da trovare oggi sul mercato con queste caratteristiche chiaramente e che voglia un po' abbracciare tutto quello che è il mondo della pesca a 360 gradi una 18 grammi potrebbe essere indicata come una canna quasi da spigola piena ma con un'azione extra fast quindi qua trovo un po' l'incrocio delle cose che mi trova d'accordo perché è una canna particolare fino ad arrivare poi addirittura alla 9 piedi e 9 piedi e 6 se non erro che è una canna che sfiorerebbe l'utilizzo dello short jig in un po' fatto a modo Favorit quindi con queste azioni come nelle Creed molto extra fast e quindi con queste azioni molto molto se che siamo abituati nello short jig in una canna leggermente più diciamo elastica nel fusto centrale ma perché no a chi piace la canna rapida da una canna quindi da spinning a 360 gradi non ci dimentichiamo quello che sta per arrivare forte in questa stagione che è lo spinning dalla barca perché ci possiamo divertire veramente con pesci anche importanti con grammature e canne e quindi artificiali anche leggeri che poi è il senso della nostra pesca, della nostra amata pesca sportiva bene a questo punto ragazzi spero che questo video vi abbia fatto piacere vi ricordo ancora una volta chiaramente che le nostre skyline a questo punto sono disponibili qua sotto il numero non è elevatissimo ma comunque si possono avere ci sono un po' degli arrivi risicati ma cerchiamo sempre di avere un buon stock a magazzino continuate a seguirci sui nostri social Fisherlandia Mondo Pesca Sportiva per quanto riguarda Facebook Fisherlandia per quanto riguarda Instagram se vi è piaciuto il video mettete un like, condividetelo, iscrivetevi al canale e qualora non l'aveste ancora fatto attivate le notifiche a questo punto come vi diciamo sempre noi che la pesca sia con voi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti